Salve a tutti, sono Francesco Fusillo e con questo piccolo video intendo spiegare e raccontare l'importanza e la forza della funzione di questo programma per la comunicazione alternativa ARAWORD. ARAWORD è incluso in Sodi Linux alla voce istruzione, non è incluso all'inizio dell'installazione del dvd che si scarica sul sito del cnr appunto la voce Sodi Linux ma una volta aggiornato il sistema cliccando questo scudetto qui il programma si installa se per caso non si installasse perché insomma è un po' grossetto semplicemente andando in accessori terminale digitate questa stringa che adesso evidenzia sudo apt-instal arasuite-sdl8 date invio scrivete la password che per noi è sempre scuola per voi non so ed ecco che si installa il vostro software il software come vi ripeto si posiziona in istruzione cliccate su ARAWORD e vi si aprirà una tabella di questo genere un software molto molto semplice che però è anche molto molto potente per la comunicazione aumentativa alternativa una volta installato appunto con doppio clicche il software si presenta presenta una tabella vuota però perché qui presenta una tabella così perché bisognerà andare a nella gestione delle risorse a caricare le immagini importate il database immagini da qui in porta cliccate e verrà scaricato dal sito di riferimento mi sembra sui 7 mila pitogrammi che vi permetteranno di poter scrivere e comunicare e creare la comunicazione il sito di riferimento questo qui è spagnolo il centro per l'educazione aragonese delle tecnologie didattiche grazie a questo lavoro spagnolo ea questa incommiabile iniziativa di questo progetto radis di asti noi abbiamo potuto includerlo in su di linux perché è stato rilasciato con una licenza assolutamente libera ecco quindi la forza del software libero ha permesso appunto di riutilizzare questa importante possibilità chi volesse saperne di più può andare anche a visitare il sito del disegnatore dei pitogrammi e scaricarli come dicevo oltre 6.500 sono stati realizzati che diventano più di 12.000 possono essere utilizzati con sistema pittografico per la comunicazione quindi si possono educare i bambini o le persone con una grave disabilità a comunicare con questi con questi pittogrammi i loro desideri i loro pensieri e appunto le loro aspettative ma andiamo a vedere come funziona questo fantastico programma a raw world come dicevo prima si presenta con questa interfaccia molto semplice una volta caricati i pittogrammi basta semplicemente scrivere qualche volta utilizzare i verbi all'infinito per poter produrre appunto delle frasi come questa al mare c'è il sole io avere fame voglio bere voglio andare al bagno ecco io avere fame mi sono ripetuto anche il menu è sotto forma di pittogramma per facilitarne la comprensione come si vede questo qui è nuovo apri salva annulla ripeti taglia copia incolla e vai all'immagine successiva componi separa e cambia il nome del pittogramma e gestione delle risorse che abbiamo visto essere qui il programma una volta realizzata la tabella che si desidera realizzare permette l'esportazione in formato jpeg come vedete qua bitma o pdf ecco sapete bene che il formato pdf mantiene l'impostazione grafica molto precisa e quindi adesso io vado per esempio a salvare questo qui lo chiamo prova 3 e salva mi troverò sulla scrivania che per linux e desktop di windows prova 3 eccolo qui ecco il mio bel pittogramma e le mie belle frasi composte al mare c'è il sole io avere fame io voglio bere lo posso ingrandire stampare tagliare a pezzetti incollare col velcro farne quello che mi pare per poterlo utilizzare lo posso plastificare e così via però andiamo a vedere come funziona il programma da una tabella una tabella nuova allora appena voi cliccate nuovo no perché le voglio scrivere vedete questa cosa qui allora per esempio scrivo io voglio bere bene ecco che ho scritto io voglio bere io voglio mangiare ecco c'è ancora bere probabilmente qua bisogna andare a modificare per essere corretti perché è stato tradotto dallo spagnolo io voglio andare al bagno perfetto perfetto andiamo a papo tu volere no tu vuoi proviamo vuoi o volere volere la mila probabilmente il volere qua non viene bene ma ci si può ragionare trovare una soluzione ecco insomma mi sembra chiaro che è abbastanza facile utilizzarlo e anche abbastanza facile modificarlo perché come dicevo prima qui c'è il bottone modifica modifica pittogramma e una volta modificato si possono raggiungere gli obiettivi che ci vogliono raggiungere insomma io sono essere vediamo essere ecco stanco e ho avere fame bene qua ci è andata bene quindi ovviamente il programma è un po' da registrare aggiustare però come si capisce fantastico abbiamo una possibilità enorme di stabilire delle comunicazioni facilitate non c'è altro da dire praticamente su questo programma a raw world se non altro che va sperimentato utilizzato e magari condivise delle soluzioni che potrebbero venire utile e un po' per tutti quelli che lo usano spero di essere stato chiaro con questo video francesco francesco fusillo per le possibilità inclusive di so di linux 2014 vi ringrazio di avermi ascoltato e buona sperimentazione mi raccomando condividiamo le soluzioni che si verranno a creare con questo fantastico programma 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 Grazie a tutti